Ma i tagli previsti della manovra, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, coinvolgono anche le forze dell'ordine, il comparto sicurezza, i cocer, cioè i rappresentanti di esercito, marina, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza, ne discutono proprio oggi. Siamo in diretta con Lucia Rotta. Sì, buongiorno, ed è la prima volta, questo va detto, la prima volta in assoluto nella storia del cocer e delle forze armate che appunto viene proposta una protesta così formale, in conferenza stampa verso una manovra finanziaria. Quali sono i motivi che hanno spinto a appunto un gesto così eclatante? I tagli previsti nella manovra e soprattutto che si snodano su due fronti. Il primo, quello del blocco degli stipendi previsto per il pubblico impiego dopo il 2010, per il triennio successivo, e il secondo, ovvero il problema degli scatti di stipendio che dovrebbero andare di pari passo con gli scatti di grado. Se venisse minato questo principio di un avanzamento anche dello stipendio rispetto agli scatti di grado, verrebbe minata, dicono qui dal cocer, l'intera struttura su cui si fondano le forze armate, cioè la struttura gerarchica. Per questo il presidente del cocer, Domenico Rossi, ha lanciato un appello direttamente al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Ascoltiamolo insieme. Noi riteniamo che solo il presidente del Consiglio possa esaminare la situazione attuale e chiediamo lo stesso rispetto che c'è stato nei confronti del presidente Marcegaglia in maniera tale che sappiamo e possiamo conoscere esattamente dove il governo vuole andare. Così come facciamo un appello al presidente del Consiglio perché qui non si tratta di legittimi interessi particolari, ma si tratta della tutela di legittimi interessi generali che incidono sulla difesa e sulla sicurezza del cittadino, nonché sulla specificità del comparto difesa e sicurezza. Ecco, dunque, le forze armate sono diverse dal resto del pubblico impiego. Questo ha voluto ribadire il generale Domenico Rossi perché la loro operatività si fonda appunto sempre su condizioni d'emergenza. Questo è l'interesse generale a cui faceva riferimento. Quali scenari si potrebbero aprire? Diciamo la protesta non finisce qui, naturalmente verrà portata avanti, dice il generale Rossi, nell'ambito di ciò che è consentito dalla legge. Per il momento è tutto dal Cocer.